Ha toccato quota 200.000 presenze a Foligno la sedicesima edizione dei primi d'Italia, la kermessa al sapore di pasta organizzata da Epta Conf Commercio, divenuta una delle principali manifestazioni gastronomiche del bel paese. Un traguardo, quello delle presenze, a cui si è giunti dopo anni di affinamento dell'organizzazione di una manifestazione che, ai suoi albori, venne ospitata anche a Gubbio, per poi trovare sede stabile lungo il topino. Gubbio però non si dà per vinta e ci riprova lanciando dal 14. al 16 novembre, la prima edizione del quinto quarto, sottotitolo I secondi d'Italia, organizzata come i primi da Epta Conf Commercio, con la preziosa collaborazione della CIA e il contributo del GAL Alta Umbria. Quinto quarto, ovvero la parte meno nobile dell'animale macellato, quella che resta dopo aver venduto i due quarti anteriori e i due quarti posteriori, dalla trippa al fegato, dalla milza alla lingua, dagli zampetti alla coda, che, se declinati seguendo le tradizioni della cucina povera italiana, danno vita a piatti che non lesinano prelibatezze. Con le parti meno preciate si possono creare dei piatti meravigliosi, dall'ampredotto alla trippa al bollito. A Modena è diventata famosa per i bolliti, eccetera, eccetera. E noi vorremmo fare questo, vorremmo lanciare questo grande evento. E Gubbio ha bisogno di questi eventi di qualità, e sì, perché non farlo diventare i secondi d'Italia? Dare l'opportunità a Gubbio di far arrivare gente, proprio perché qua si organizza, ci saranno dei chef stellati, poi tante cose non ve le posso dire, perché piano piano le sviscereremo con dei comunicati stampa, diventerà una grande kermesse culinaria e sicuramente con l'interessamento di tutti i ristoratori, dell'Università dei Muratori, che ci metteranno a disposizione le famiglie cerariole, le taverne, gli arconi di Piazza Grande, con le cucine dei muratori, sarà una manifestazione per Gubbio a 360 gradi. E noi ci auguriamo che parteciperà tanta gente da fuori, ma anche tutti gli ogubini, come dico io, sono il presidente della ConfCommercio, di un'associazione di categoria che va da Sioli a Branca, ma tutti gli ogubini, anche delle frazioni, vengano a vedere come quello che ci si può realizzare con la parte povera della bestia. I dettagli della kermesse sono ancora top secret, si sa che ci saranno laboratori di cucina e street food, che impegneranno alcune firme eccellenti della cucina italiana, ma in una città che vanta una tradizione culinaria importante e una ristorazione di qualità, I Secondi d'Italia sarà, per volontà degli organizzatori, anche il mezzo per far conoscere i gioielli di famiglia, coinvolgendo pienamente negli appuntamenti gli chef e i ristoratori ogubini. Quale sarà il risultato? Si vedrà, per il momento è in moto la macchina organizzativa, così come quella della comunicazione, che già pubblicizza il marchio I Secondi d'Italia, con sottoscritto Gubbio, sui media nazionali.